Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte e visto che è la vigilia di Natale, facciamo Last Christmas di George Michael. Cantare in libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono Re maggiore quindi se a sinistra dei due tasti neri c'è il Do, accanto abbiamo Re, Fa diesis, La queste tre note formano il Re maggiore poi avremo Si minore, quindi andando indietro, Do, Si Re, Fa diesis, Si minore poi Mi minore, Do, Re, Mi Mi, Sol, Si, forma il Mi minore ed infine il La maggiore quindi partendo sempre dal Do andando indietro Si, La, La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore e la canzone, conosciamo bene, fa così E poi gli accordi resteranno sempre gli stessi per tutta la canzone e si ripeteranno sempre allo stesso modo Bene, anche questa era una canzone semplice come abbiamo visto da suonare al pianoforte vi lascio in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi altri due link riguardanti proprio puntate sugli accordi per imparare gli accordi del pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani Ciao, alla prossima